Kion Pearson vince il Chicago Pro nella categoria 2-12 per la seconda volta consecutiva e vuole al Mr. Olympia infatti Kion Pearson dopo la vittoria dell'anno scorso ora vince il nuovo 2021 e vuole al Mr. Olympia dove affronterà Sean Clarida che dire una buona prestazione di Kion non c'erano dubbi che lui si sarebbe portato il titolo a casa infatti Kion è un atleta che è veramente fantastico, è uno dei miei preferiti atleti nel 2-12 mi piace veramente molto perché si può datare sia al Classic che al 2-12 ha una struttura qualsiasi delle linee, delle proporzioni che sono rare trovarle ultimamente anche nel 2-12 credo che è una buona prestazione, molti criticano Kion perché dicono che ha portato una condizione non buona un po' migliorata rispetto all'anno scorso ma non migliorata io onestamente credo che Kion sia arrivato in una buona condizione ma che semplicemente faccia fatica a definirsi nei glutei e nei femorali perché i problemi di Kion appunto sono i glutei e i femorali, lui non riesce a definirsi in quei punti però nel resto del corpo era in una buona condizione, forse non era in una condizione da 2-12 che è la categoria in cui gli atleti sono più definiti estremi però era in una buona condizione ma i glutei e i femorali non sono mai stati appunto il suo porto, non sono striati, non hanno dei tallini formali sia di lato che di schiena quindi questo è un po' il suo problema però secondo la mia opinione Kion era in una buona condizione al secondo posto abbiamo Hakmad e Sadani che hanno fatto una buonissima gara una buonissima prestazione, un migliorato notevolmente della sua ultima gara che era sempre il Chicago Pro del 2020 in cui è arrivato il settimo con un line up che era più basso rispetto a quello che c'era oggi quindi da settimo a secondo, un miglioramento incredibile un'ottima condizione come ho detto nel pronostico del 2-12 Hakmad è un buon atleta, una struttura fenomenale, una vita strettissima dell'ottima tonità muscolare, una condizione veramente fantastica quindi Hakmad ha fatto un miglioramento incredibile al terzo posto abbiamo Kenneth Boho buona prestazione che lui lo hanno messo quasi sempre al centro al pre-judging alle finali non so come lo abbiano spostato però al momento è arrivato terzo invece al quarto posto un po' sorpresa a mio avviso abbiamo John Jewett credo che sarebbe arrivato secondo però comunque è arrivato in una condizione fantastica una condizione estrema credo che sia anche migliore della sua ultima gara al New York Pro dei glutei femorali fenomenali per John forse non è il più bello da vedere però è un'attrata che a me piace molto che si è classificata al quarto posto al momento ha preso dei punti in vista della classifica per la qualifica al Mistro Olimpia è già il primo senza che la classifica venga aggiornata a 11 punti quindi sicuramente John Jewett si qualificherà al Mistro Olimpia tramite i punti però tornando su Kion ora lo vedremo al Mistro Olimpia accanto a Sean Clarida e la domanda è Kion può battere Sean Clarida e conquistare il titolo di Mistro Olimpia 2.12 a mio avviso Kion può battere Sean perché lo preferisco nettamente a Sean perché è più bella da vedere la miglior struttura e proporzioni però Sean d'altro canto ha una condizione migliore i dettagli nei glutei e nei femorali che Kion al momento non ha e sono una cosa molto importante fanno molte differenze glutei e femorali molte si sottovalutano ma fanno molto la differenza soprattutto in una categoria dove la condizione estrema è un must cioè conta un sacco quasi tutti i dettagli del 2.12 sono una condizione il doppio dell'estremo quindi vedremo se Kion riuscirà a stare al passo di Sean Clarida al momento nel 2.12 sta veramente diventando una categoria molto interessante perché ci sono un sacco di atleti che possono contenere il titolo abbiamo Sean Clarida abbiamo Kamal Elgani anche nel 2019 non pensate che Kamal sia perduto sia finito perché basti guardare il miglioramento che ha fatto dal 2019 al 2020 all'età di 49 anni quindi Kamal non è un'attrata perduta può ancora riconquistare il suo titolo probabilmente farò un video sul suo miglioramento in un anno fatemi sapere se lo volete poi abbiamo appunto Kion Pearson un'attrata fantastico abbiamo Derek Lansford che penso che dall'anno prossimo passerà all'open girano voci che passerà all'open però Derek Lansford era il favorito per due anni fa vince il misto olimpio nel 2.12 infatti non c'era più Flex Lewis e Derek Lansford è il preferito ma purtroppo non ha vinto però mi piace anche lui moltissimo anche se credo che onestamente passerà all'open perché ha malapena rientrare nel peso fa delle off-season in cui arriva a 250 pounds e poi deve perdere quasi 40 per entrare nel peso anche se è perfetto a 225 quindi perde molto l'amassamento muscolare per entrare nel peso quindi credo che dall'anno prossimo 2022 passerà all'open però su Kion sono veramente molto molto curioso dello suo mister l'imper l'anno scorso non ha partecipato anche se aveva vinto una gara aveva deciso di non partecipare per prendersi un periodo di riposo ha detto lui stesso che era molto stanco quindi si è preso un periodo di riposo però quindi vedremo Kion Pearson al canto di Sean Clarida sarà veramente una bella bellissima sfida da un lato un bodybuilder molto estetico con delle proporzioni assurde e da un lato Sean Clarida con delle masse anche se ha un'altezza un po' bassina assurde e con una definizione estrema credo che Sean migliorerà notevolmente dal Mr. Limpio 2020 ho visto un'intervista che ha fatto con Dennis James nel podcast di Dennis James c'era Sean Clarida e Sean ha detto chiaramente che vuole lamentare la sua mossa muscolare come ha detto la sua coach Matti Jansen ha detto che l'anno scorso erano 176 pounds e quest'anno vogliono arrivare a 186 188 pounds quindi un po' chiede di massa muscolare naturalmente incredibile sono in circa 4-5 chili per dircela comunque fatemi sapere cosa ne passate di Kion fatemi sapere se sia meritata o sbagliata la sua vittoria fatemi sapere anche cosa ne pensate la sua condizione e fatemi sapere se secondo voi Kion Pearson vincerà il Mr. Limpio 2021 nel 2-12 io credo che onestamente potrebbe farlo dipende da come vedo gli ingiugi se preferiscono la condizione alle eleganze e alle proporzioni vedremo se non siete iscritti iscrivetevi un like che sarebbe gradito ci vediamo nel prossimo video hello guys